E... bella a tutti ragazzi, sono G2B che sono qui oggi a portarvi quello che è il secondo episodio probabilmente riguardo alle skin Il primo episodio lo trovate molto probabilmente qua in alto a destra per voi E nel primo episodio ho portato quelle che erano secondo me le 10 skin più brutte di Fortnite Invece questa volta ho deciso di riportare, ho visto che comunque vi interessava questo argomento qua Ho deciso di portarvi 10 skin che secondo me sono tra le più belle di Fortnite Anche non solo belle ma anche molto rare da trovare all'interno del game Io vi gioco questa partita qua semplicemente per non lasciarvi il menu di sottofondo La gioco ma senza nemmeno stargli a pensare a cosa sto facendo Trovo come sottofondo Allora io direi di partire con la prima skin Allora premetto che le opinioni sono personali quindi magari su tante skin non ci troveremo d'accordo Però qua sotto nei commenti lasciate un bel commentino in cui mi dite quali sono secondo voi le 10 skin migliori E se siete in accordo o in disaccordo riguardo alcune o tutte le skin per dire Allora direi che possiamo partire con la prima Allora io parto da questo posto che una delle mie preferite raga è l'orsacchiotto Quella che sto utilizzando adesso Perché è veramente caratteristico secondo me E a me piace A me piacciono tanto i colori tipo rosa Viola I colori che si notano Sarò un po' egocentrico Ma raga mi piace Cosa devo dire Infatti un'altra skin che mi piace tantissimo raga è Il coniglio Il coniglio rosa Trovo che sia veramente carino Vabbè anche carino La versione donna Quella bianca Però secondo me è tanto più bella La versione rosa Comunque raga come avrete già sicuramente notato Vi sto lasciando le skin in sottofondo in modo tale che Nel caso in cui non capiste la mia descrizione Capita appunto la skin Visto che ve la mostro Allora un'altra skin che trovo veramente veramente figa Perché incute tantissimo timore Secondo me è la skin del corvo Che cazzo è questa cosa qua La skin del corvo perché mette un botto d'ansia secondo me da affrontare E anche per quello che è veramente bello Perché io parto il presupposto che Una skin è bella anche in base a quanto mette ansia a affrontarla Tipo all'inizio del pass battaglia 3 Metteva ansia troppo affrontare John Wick Quando nessuno ce l'aveva Poi vabbè non sta a riceverlo tutti quindi Ha perso valore Comunque metteva ansia Cioè io almeno la penso così Quindi sono anche I miei pari sono anche dettati da questa cosa che vi ho appena spiegato Il corvo appunto mette tanta ansia anche perché Cioè è tipo una skin tetra oscura Quindi è bella secondo me Un'altra skin sotto quell'aspetto lì bella È il Cavaliere Nero e il Cavaliere Rosso Sono bellissime quelle due skin lì Il Cavaliere Nero Perché soprattutto ce l'ha poca gente Io ho iniziato a giocare dal pass battaglia 2 Quindi avrei potuto prenderlo Però non ce l'ho fatta come livelli Anche perché livellare nel pass battaglia Era molto più difficile nel pass battaglia 2 Rispetto al pass battaglia 3 e al pass battaglia 4 Anche perché le sfide non potevi recuperarle Quindi io il pass battaglia l'avevo visto dopo Rispetto agli altri e non ho potuto recuperarlo Non sono arrivato al Cavaliere Nero Quindi purtroppo me lo sono perso E poi invece anche il Cavaliere Rosso Non riguardava il pass battaglia Ma semplicemente bisognava sciopparlo Mi sembrava costesse tipo 2000 V-Bucks Ma era bellissima come skin secondo me Forse una delle skin migliori in assoluto Se abbinata con Quanto cazzo lagavo? Se abbinato Aiuto! Quanto sto lagando? Secondo me è una delle skin migliori Abbinata tipo alle ali Rega abbinata alle ali È devastante secondo me quella skin lì Ma anche il Cavaliere Nero Mettete un botto ansia La combo Cavaliere Nero O Cavaliere Rosso più ali Penso sia una delle combo Più pesanti da affrontare Sotto il lato emotivo Non so se la penso solo io così Ma ad esempio quando trovo un Cavaliere Nero Contro che magari c'ha pure le ali Parto leggermente svantaggiato Secondo la mia mentalità Dico Oh cazzo questo qua è forte Cioè parto da quella mentalità lì Un'altra skin che mi piace veramente tantissimo È il Bright Bomber Quello maschio Quello che sembra un po' Omosessuale Quello che ha i capelli gialli È stra bella per me quella lì Una delle skin migliori Poi c'è anche Oddio Poi c'è anche Lo zainetto dietro Che secondo me È qualcosa di Devastante Raga Devastante Secondo me è veramente Una delle skin più belle Poi costava Mi pare anche solo 1.500 Rispetto alle altre A quasi tutte le altre Che costavano 2.000 Un'altra Skin Veramente Veramente Carina E che c'è la pochissima gente Perché era uscita Nel pass battaglia 2 Mi pare È la skin Dell' Per chi ha visto Shrek Mi capirà Per chi non l'ha visto Mi capirete In base alla foto Che metterò È l'uomo focaccina Dai figa L'avevo preso lì È l'uomo focaccina Quello che sembra Fatto tipo di marzapane È bellissima raga Poi c'è la pochissima gente E per quello che è ancora più figa C'è la veramente Sia Sia il maschio Sia la tipo Però io preferisco il maschio Putta la Eva Raga Raga Giorgione power Oltre all'uomo focaccina Un'altra skin Che mi piace veramente Tantissimo È quella di Twitch Prime Io ce l'ho Perché avevo Amazon Prime Perché acquisto molto Amazon Prime Quindi avevo Amazon Prime appunto E quindi ho semplicemente collegato Amazon Prime Con Twitch Prime E ho ottenuto quella skin Che è veramente Veramente Molto sick Ma mi riferisco alla prima Al primo pacchetto Ve lo starò facendo vedere adesso È veramente molto carina Secondo i miei gusti Perché Anche perché C'è stato un periodo in cui La gente la metteva Però poi hanno iniziato A non metterla più E quindi mi ritrovo quasi sempre Da solo nella lobby Quindi mi sentivo abbastanza unico E speciale Ragazzino Speciale Un'altra skin Che secondo me Ha pochissima Veramente pochissima gente È la skin Che era uscita Mi pare Nel periodo natalizio Ed era la skin Della donna Con le corna Del cervo Quella raga Aiuto Veramente Veramente Bellissimo Poi La cosa che secondo me Rende tanto Più belle le skin È il fatto che Ce l'abbiano Poca persone Meno gente Ha la skin E più è figa Secondo Cioè La maggior parte dei casi È così Vabbè ci sono delle skin Che magari ha poca gente Che però non mi piacciono Però nella maggior parte dei casi Il valore di una skin Anche in base Al Come Come d'altronde In tutto In tutte le cose Meno una cosa Sarà la gente Più affascina Perché così L'ultima skin Che secondo me Dovrebbero rimettere Nello shop È la skin Di Halloween Si chiama tipo Sculptroper Una roba del genere In inglese Però non mi ricordo Come si chiama in italiano Comunque veramente Quella lì È bellissima Raga Bellissima L'abbiamo messa Nel periodo di Halloween Non mi pare Correggetemi Se sbaglio Ma dovrebbe essere così Ok ragazzuoli In teoria Le cose che devo dire Vi sono finite Quindi Se vi siete persi Il primo episodio Andatevelo a vedere E fatemi sapere anche Oh trovo solo Mitraite silenziate Fatemi sapere Anche se volete Ad esempio Che vi porti Tipo I dieci migliori Picconi Per dire Perché Ce ne sono alcuni Che sono veramente Carini Vale Quindi fatemi sapere Se li volete Perché io Sono anche disposto A portarli Quindi Nulla ragazzuoli Ci ricchiamo Alla prossima Mi Di 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 Oh Ciao